Previsioni meteo per mercoledì 29 marzo. Al nord un massiccio campo di alta pressione continua a garantire tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Al centro alta pressione ancora ben salda, garanzia di bel tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni, al più poco nuvolosi. Al sud alta pressione e bel tempo prevalente ovunque salvo pochi addensamenti tra nord Sicilia e stretto. Venti deboli variabili. Mari da mossi a molto mossi. Temperature stazionarie.